Feder Consumatori avvia una causa collettiva per il recupero dell'IVA pagata sulla tassa dei rifiuti. L'Associazione dei Consumatori, che assedde in Via La Spezia, rende noto, infatti, attraverso un comunicato, di avere promosso una causa collettiva nei confronti di IREN per il recupero dell'IVA ingiustamente pagata dagli utenti sul tributo dei rifiuti TIA, la tariffa di igiene ambientale, negli anni compresi tra il 2004 e il 2012. Fu infatti nel 2012 che la Corte di Cassazione dichiarò illegittime e fece sessare la richiesta di pagamento dell'IVA. Recentemente, inoltre, due sentenze a Bologna e Reggio Emilia, sia presso il giudice di pace che presso il Tribunale, hanno dato ragione ai ricorsi promossi da Feder Consumatori e in passato anche a Parma si sono registrate sentenze favorevoli in proposito. Gli importi IVA di cui gli utenti possono chiedere la restituzione variano da alcune decine ad alcune centinaia di euro. Si tratta comunque di un'azione volta a ripristinare, sia pure a posteriori, una situazione di legalità. Potranno aderire alla causa i residenti nei comuni che in quegli anni hanno adottato la TIA al posto della Tarsu, che sono Parma, Collecchio, Langhirano, Colorno, Felino, Fontanellato, Fontevivo, Mezzani, Medesano, Salabaganza, Sorbolo, Tornolo e Torrile. Gli utenti interessati possono rivolgersi tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, dalle 14 alle 18, alla sede provinciale di Feder Consumatori in via Laspezia 156, per avere tutte le informazioni necessarie per procedere all'adesione formale alla causa collettiva.